ossuccio il campanile sala la isola comacina l'enno insomma il centro lago ormai si sta preparando all'appuntamento clou dell'estate la classica il 22 di giugno infatti la tradizionale sagra di san giovanni ed è proprio qui dunque che il cielo si illuminerà quasi a giorno sabato prossimo fuochi d'artificio davvero suggestivi che richiamano ogni anno migliaia di persone grazie a tutti